Ecco Wallabot. Rileva tubi, cavi o montanti in metallo o legno, attraverso cartongesso e cemento. Attacca Wallabot al telefono. Wallabot emette dei segnali e ne riceve la riflessione, che quindi viene tradotta in informazioni utili. Ora che ho esaminato la parete, ho un quadro più preciso di dove si trovano i montanti. Sono qui, qui e qui. Vedo che qui c'è un cavo o un tubo. Ed ecco, Wallabot ha trovato un montante. Congratulazioni! Ora puoi martellare o trapanare sapendo esattamente cosa si trova dietro la parete.